Il trofeo Madonna delle Nevi è anche questo, cioè guardate, un artista, una star, saluto il pubblico, guardate che robe, ma io mi sento veramente, guardate che storia, guardate che storia, guardate che scena, saluto anche il pubblico, guardate che roba, io vorrei vedere questa scena tra dieci anni, una medaglia che vuol fare con coppa, con la coppa, bellissima, complimenti, questi sono genitori importanti, bravi, bravissima, si è partita poi, chiaro, complimenti, qui proprio un'intervista impossibile, complimenti e bravi, grazie a voi per l'organizzazione, è dovuto, ho il cappello Delfino a casa ma voglio dare un viva, complimenti Stella, brava, saluto a tutti, fai un saluto, signori, fate un grande applauso, guardate, bravo Paolo, guardate che classe, poi addirittura arriva il traguardo, manda baci, saluta, bellissimo, bene, qui vedo prossima squadra al traguardo, vi ricordo a tutti che avete le classifiche esposte nella casetta dei cronometristi, che potete anche confrontarsi.